allora eccoci qui in canile oggi abbiamo trovato questa taglia piccola un maschietto di 5 6 anni circa divide il box con maschi e femmine eccole qua lui è un maschio è il suo compagno questa è la prima volta che lo conosciamo ci sono sempre richieste di taglie piccole allora ed ecco una taglia piccola molto affettuoso molto carino vedete con il maschio che facciamo troviamo una casetta questo ragazzo si capisce che è stato in famiglia perché lui è tranquillo conosce le persone non ha nessun problema non ha paura di nulla va al guinzaglio abbastanza bene e si trova a vetrarla eccolo qua fatti vedere ancora un nome non glielo abbiamo dato a breve decideremo come chiamarlo oppure se già un nome ve lo faremo sapere ciao a tutti ragazzi mi venite a trovare io sono a vetrarla ciao ciao guardate che bello proprio carino carino carino